Leggermente più bello, ma anche tu te la cavi bene. Bene, questa canzone... Papo, 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 papo! Grazie. Grazie, grazie. No, me lo merito. Me lo merito. Almeno non davanti a loro, dai. Allora, questa canzone parla... Eh, per favore. Sei inutile quanto un paio di mutande misto acrilico. Allora, andiamo avanti. Questa canzone parla del potere che ha, chi ti vede le rose, di farti andare a colpo la sera. Perché so questo? Volete una prova? Guardate Blanco. Dopo Sanremo. Tutte pippe. Questa è una verità. È vero, è vero. Quindi questa canzone dimostra che con una rosa acquisita da un uomo si può andare a segno. E quest'uomo è Rosario.